Credo che i due interventi precedenti abbiano già aperto un terreno di riflessione immenso che pone all'attenzione due elementi che potrebbero sembrare in antitesi, a prima vista. Da una parte potremmo dire un ricordo della storia, della sinistra, della destra, del pensiero, potremmo dire umanistico, in qualche modo dall'altra l'emergenza di tecnologie che irrompono in questo terreno e certamente lo cambiano. Ecco, io credo che però invece, non per un irenismo ma per un pensiero dialettico, queste due esigenze siano assolutamente entrambe fondamentali, se vogliamo sperare, in una rivoluzione antropologica nuova, quindi non violenta, democratica, allegra e divertente. Perché, vi prego, non mi fate fare una rivoluzione noiosa perché già mi sono annoiato. Quindi, una rivoluzione che non si è mai vista, una rivoluzione che non ha le immagini violente né del XVIII, né del XIX, né del XX secolo. Una cosa nuova. Quello che resta nel termine rivoluzione è l'idea di un cambiamento radicale. Non è una riforma. Non siamo di fronte a dei piccoli cambiamenti. Siamo di fronte ad una rivoluzione, in questo senso recuperiamo il termine. Io posso capire le riserve di paragone. Però io credo che siamo nella necessità di recuperare questo termine che è antico. Questo termine è molto antico. Si può dire che l'idea di rivoluzione connoti tutta la modernità, fin dalla rivoluzione di Copernico, che è la prima grande rivoluzione antropologica che ci ha fatto capire che non siamo al centro dell'universo. E da lì incominciano tutte le rivoluzioni successive politiche, perché è chiaro che se non siamo al centro dell'universo, non è al centro dell'universo nemmeno il Re Sole, che si chiamava il Re Sole, credeva di stare lì al centro dell'universo. E qui tutti i punti dell'universo, ecco la rete, sono punti di una correlazione non solo piramidale, ma appunto a rete. Quindi questi due elementi io credo che debbono necessariamente coesistere e amalgamarsi trasformandosi, perché oggi, e lo vedremo rapidamente, un pensiero diciamo tradizionale di sinistra e di destra è in crisi, lo ha raccontato Paragone, lo ridirò in breve, e non è in crisi per caso, vedremo anche perché, e quindi ha bisogno di un rinnovamento, però io credo anche, come diceva Enrica Sabatini, che la rete è una tecnica, è una grande tecnologia, ma le grandi tecnologie, come la stampa, se ne è stata nominata giustamente, la televisione, alla fine, tutte le tecnologie hanno bisogno di contenuti di pensiero. Quindi diciamo di quell'elemento poi umano, radicale, antico, ecco, che è non sradicabile, perché altrimenti tu puoi fare tutti i video del mondo, ma se non c'hai niente da dire, non sai che cosa scrivere, non serve a niente e l'intelligenza collettiva, invece di arricchirsi, si abbassa. Quindi le due dimensioni, fisico-telematica, mi piace questo, poetico-telematica, debbono, secondo me, coesistere, e dobbiamo trovare i modi equilibrati perché esistano in modo efficace. Questo sarà il nostro lavoro di questo secolo, cioè dobbiamo capire come equilibrare l'elemento fisico con l'elemento telematico nell'azione rivoluzionaria, di cambiamento di cui abbiamo urgentissimo bisogno. Come diceva giustamente Enrica Sabatini, noi soffriamo di depressione perché non abbiamo nessun serio motivo per aggregarci, non abbiamo più nessuna visione, nessun sogno, nessuna speranza forte di essere sulla terra, di essere insieme sulla terra per fare qualche cosa che resti, che sia bello fare, che sia divertente fare. Quindi questo è un grande compito culturale per il XXI secolo. Allora, rapidamente, perché 20 minuti sono pochi e ormai ce ne ho 18, il tempo passa, stringe, allora corre via, la vita è già finita, una facciata e finestra, diceva la mia bisnonna. Te sazzi, te svegli, alzi la finestra, la chiudi e vai a casa. È vero o no? Quindi bisogna, vero paragone, bisogna lavorare in questo piccolo tempo che abbiamo, facciamo il meglio, che così ci divertiamo. Allora, il problema è semplice. Negli ultimi anni la politica era diventata qualche cosa di noioso o di corrotto e di sporco. Questa era la percezione comune. La politica era, per certi reti ancora è, la cosa peggiore del mondo. È uscita una ricerca a livello europeo che ci dice che i giovani dai 18 ai 34 anni, per l'82% considerano i politici come le persone più squalificate in assoluto. In Italia 94% è la percentuale. Quindi questa era la politica. E perché? E ce lo dice bene un grande sociologo morto di recente, Gallino, che probabilmente Paragone conosce molto bene, Luciano Gallino, che in poche parole ci dice perché la politica alla fine non ci interessava più o non ci interessa più se è questa roba qua. Di fronte al potere dell'oligarchia, dice Gallino, che riesce ad essere nel medesimo tempo un potere occulto, pur essendo sotto gli occhi di tutti, il processo democratico è stato svuotato di senso in tutta Europa. Quasi nulla di quanto viene dibattuto in una normale tornata elettorale ha qualcosa a che fare con le ragioni profonde della crisi europea o con i suoi possibili rimedi. Eh, te credo, no? Poi si chiede, Gallino, ma quanti sono gli oligarchi in Europa? Una cifra si può azzardare. Si tratta di un numero di alcune migliaia di individui. Siano essi soci per conto proprio o rappresentanti di imprese o società o istituzioni. Il loro immenso potere, diretto e indiretto, sovrasta di gran lunga quello complessivo del mezzo miliardo di cittadini dell'Unione. Questa è la realtà. Gallino, non è certo sto complottista, no? Perché appena uno fa un ragionamento un po' fondato e profondo, i complottisti, quelli veri, cioè quelli che fanno i veri complotti, ti accusano di essere complottista. Ormai ci stanno un po' più accorti, perché ancora esistendo la possibilità di votare e avendo preso almeno in Italia due, tre tramvate storiche, stando un pochino più in campana, ma sempre ancora poco. Sempre ancora poco. Ancora non è stato ancora capito bene questo moto di rivolta, che non è affatto una questione solo di rabbia. C'è anche un po' di rabbia, la rabbia è anche normale, perché se è vero quello che dice Gallino, sono un po' arrabbiato anch'io, cioè anche perché questo potere sostanzialmente totalitario di queste oligarchie che controllano il sistema finance capitalistico, come dice ancora Gallino, ma che poi controllano i governi e poi controlla il sistema mass mediale, il paragone lo sa, perché ci ha lavorato tanto, è un sistema totalitario che uno dice beh, allora che cosa dobbiamo fare? ecco perché riemerge un concetto di rivoluzione. Prendiamo un'altra fonte, vi leggo queste frasi di un pentastellato, probabilmente complottista, che dice si instaura nel mondo una nuova tirannide invisibile a volte virtuale che impone in modo unilaterale e implacabile le sue leggi e le sue regole. La brama del potere e dell'avere l'opposto diciamo di quella generosità, di quella gratuità, di quella gioia poetica che è al fondo della vita umana. Questo non vuol dire che non ci vuole la giusta retribuzione, non mi fraintendere, il 36 me lo ricordo a memoria. È chiaro che ci vuole una giusta retribuzione, ma quando io mi vado a comprare un caffè al bar, giusto? Tu, quello ti dà il caffè, e tu che dici? Dici grazie. L'hai pagato, certo, però dici grazie, perché anche nell'atto lavorativo retribuito c'è sempre qualcosa di più che va ringraziato. Così siamo fatti noi umani. A noi non basta, è fondamentale il denaro, per carità di Dio, non scherziamo. No, lo dico a te, lo dico a te perché so che ci tieni molto. L'hai detto. No, però non è tutto e non può essere il Dio che governa la vita, non può essere il Dio che governa la politica, non può essere il Dio che governa la cultura, non può essere il Dio che governa l'arte, perché altrimenti, altrimenti, questo, questo è stato creato. Questo è stato creato per cui la brama del potere non conosce limiti in questo sistema che tende a fagocitare tutto, perché si mangia tutto il sistema economico che mette l'utile al fondamento, come dice Benedetto Croce. se tu metti l'utile al fondamento, si mangia il bello, si mangia il bene, si mangia il vero. L'utile deve essere subalterno, non può essere paritario, deve essere subalterno, perché è subalterno nell'essenza umana. Se tu invece lo fai dominare, distruggi l'essenza umana, che è essenzialmente libertà, creatività, amore, oso dire, oso dire. Si può parlare in questi termini? Sì, pensate, dentro il Parlamento. Dalila, ma che sa fare? La rivoluzione sa fare? Questa è la rivoluzione, questa è la rivoluzione. Pacifica, dentro le istituzioni, contro nessuno, a favore di tutti gli umani, però non del sistema oligarchico che ci vuole rendere polli d'allevamento, come dice Agabber. Fagocita tutto al fine di accrescere i benefici, qualunque cosa che sia fragile, in un sistema come questo, qualunque cosa che sia fragile, come l'ambiente, rimane in difesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta. Ebbene, questo è il Papa. Notariamente un pentastellato, un complottista, eccetera. Quindi, la verità è che chi pensa ancora nel mondo, chi ancora ha un pensiero, pensa a queste cose qui, perché sono evidenti. Chi nasconde queste cose è perché o non pensa, oppure fa parte di quelle migliaia di persone di cui diceva Gallino, e quindi non ha molto interesse che queste cose vengano dette esplicitamente, perché se le diciamo esplicitamente, inevitabilmente iniziamo un processo rivoluzionario, nuovo, ma radicalmente rivoluzionario. Ora, molti movimenti sono nati negli ultimi decenni, qui e lì, per contestare questo sistema, no? Occupai Wall Street, Podemos, Indignado, Siriza, Alba Dorata, sia di sinistra che di destra, Melanchon e la Le Pen in Francia. Ora, però, che cosa abbiamo visto? Che questi movimenti hanno avuto scarso successo e, alla fine, in Francia ha vinto Macron, proprio perché le opposizioni antisistema, per la loro radice ideologica molto novecentesca o di un tipo o di un altro, si sono separati tra loro e alla fine ha vinto Macron. Ora, quello che io vorrei dire in questi pochi minuti è che non dovremmo dimenticare che il pensiero unico neoliberista, questo qui, ha vinto nel mondo, ha trionfato non a caso, cioè, non è un caso che a partire dagli anni Ottanta ha pian pianino stravinto, ha stravinto perché le culture socialdemocratiche, cristianodemocratiche, liberaldemocratiche, ma anche nazionali, erano estremamente consumate, erano estremamente consumate, non avevano uno slancio di opposizione, questo è il problema. quindi, e su questo dovremmo fare altri seminari, cioè, come mai queste culture si sono esaurite? Perché la socialdemocrazia in Europa non ha più un fuoco vitale ed è rifluita su posizioni neoliberiste come dice Prodi, quindi non è che lo dice appunto Grillo, Prodi in un articolo scrive la causa della sconfitta di questa grande stagione, quella dell'ulivo mondiale per intenderci, è da individuare nel fatto che mentre in teoria il nuovo Labur e l'ulivo mondiale erano un fucina di novità, nella prassi di governo Tony Blair e i governi che a esso si erano ispirati si limitavano a imitare le precedenti politiche dei conservatori sul dominio assoluto dei mercati, sul peggioramento nella distribuzione dei redditi, sulle politiche europee, sul grande problema della pace e della guerra, sui diritti dei cittadini, sulle politiche fiscali, le decisioni non si discostavano spesso da quelle precedenti. Ecco perché crolla questo sistema della sinistra che non ha più energia, non convince. Ma qui dovremmo fare un passo ancora più profondo che qui ovviamente non possiamo fare e cioè che le categorie portanti sia della sinistra che della destra, categorie che si sono andate formulando a partire dalla rivoluzione francese perché sinistra e destra non sono categorie politiche eterne. Sinistra e destra sono categorie politiche che nascono durante l'assemblea nazionale costituente del 1789 per un motivo molto semplice. A destra del presidente c'erano quelli che volevano che il re avesse ancora un potere sostanziale. A sinistra si mettevano quelli che non volevano più questo potere del monarca. Da qua nasce quindi. D'altra parte però alcune categorie che sono diventate proprie della sinistra e della destra stanno vivendo una crisi concettuale. Pensiamo al progresso che è sempre stata una categoria di sinistra. Oggi chi è in grado con una certa chiarezza di spiegarci qual è la direzione del progresso. Per dire con chiarezza qual è la direzione del progresso ci vuole una filosofia della storia. Cioè devi sapere dove sta andando l'umanità così come gli illuministi e i marxisti credevano di sapere e quindi ti dicevano questo è progressivo questo è regressivo ma oggi le cose sono molto ambigue. La tecnica è una cosa straordinaria ma il novecento ci ha fatto capire che c'è anche una grande ombra per cui non è che la tecnologia lo sviluppo delle tecnologie è di per sé sempre un progresso certo che lo è ma è anche il progresso di una grande ombra cioè l'energia atomica è stata una straordinaria invenzione ma poi c'è anche la bomba atomica ed è uguale quindi noi siamo più sospettosi rispetto al concetto di progresso. La sinistra che cosa ha fatto? Ha appiattito il concetto di progresso su quello di sviluppo economico quindi è progresso lo sviluppo economico la crescita economica e quindi ha perduto però il suo afflato allora tu che cosa sei? Sei un liberista che vuol dire progressista? Qual è la visione di umanità progressiva futura che mi vuoi proporre? Qual è? La crescita? Lo 0,1 e passi tutta la vita 0,1 0,2 ma questo non è il liberismo? Ok? Ugualmente la libertà Bobbio come sapete diceva che la libertà era una categoria della destra ma in che senso? A che cosa si è ridotta la libertà all'interno del pensiero cosiddetto di destra? La libertà del mercato non la libertà dell'uomo non la liberazione interiore dell'uomo profonda e quindi anche il concetto di libertà il popolo delle libertà de fa che? No? E guzzanti no? Il popolo delle libertà è il luogo in cui ognuno fa un po' come ca lievare cioè quello la libertà è questo? Questa è la destra? Questa è l'entusiasmante destra? Alla destra appartenevano categorie come la tradizione la famiglia l'onore la nazione cose belle cose che vanno recuperate ma chi ha rappresentato in modo decente l'onore la tradizione la programmazione mediaset colpo grosso non lo so capite? Quindi tutte queste la giustizia non ne parliamo ne parlava Paragone la giustizia categoria fondamentale della sinistra ma la giustizia che cosa si è ridotta? Noi la vediamo violata continuamente nei suoi fondamentali ecco è tutto questo questo crollo delle categorie fondamentali della sinistra e della destra filosofiche che porta a questo punto nuovo della storia un punto nel quale a mio parere queste categorie vanno recuperate in una sintesi nuova in questo senso una rivoluzione che assorba gli elementi positivi sia della destra che della sinistra io voglio capire in modo nuovo che cosa vuol dire progresso voglio con voi ecco l'intelligenza collettiva voglio che decidiamo insieme che tipo di umanità vogliamo costruire positiva ed evolutiva nei prossimi secoli perché non siamo affatto né d'accordo né chiari voglio conservare elementi della tradizione spirituale artistica linguistica dei popoli perché è un'energia enorme senza la quale gli uomini sono sradicati sono perduti nel caos del mercato e dei mercati però anche qui ci vuole discernimento e ci vuole integrazione ci vuole integrazione una tradizione autentica è sempre progressiva qui ci sarebbero tante cose da dire ma è evidente la tradizione vivente di un popolo proprio perché è vivente cambia e una progressività reale non può essere sganciata da una storia è la continuazione di una storia sempre rilanciata ecco il laboratorio di parole di pensiero che tutti avete evocato e che secondo me è fondamentale mantenere desto e di far diventare patrimonio comune attraverso la rete la rete è uno strumento fondamentale di questa rivoluzione culturale lo può essere direi perché io non credo nel determinismo né nella necessità noi siamo esseri liberi che possiamo prendere un martello per mettere un chiodo o per ammazzare una persona questo non sta nella natura del martello sta nella mano che lo brandisce e quindi ci vuole una formazione umana continua per l'utilizzo delle tecnologie in maniera evolutiva ci vuole una discussione pubblica su cosa sono le tecnologie e qui voglio concludere perché vedo che i 20 minuti sono passati con una bella immagine una bella immagine da lanciare qui in questo bel luogo che è il Parlamento perché noi dobbiamo valorizzare ridare alle istituzioni democratiche il loro fascino rivoluzionario perché la democrazia è un movimento rivoluzionario intrinseco come si diceva la Costituzione italiana è in realtà uno scritto continuamente nuovo che rilancia continuamente i suoi valori che non saranno mai del tutto compiuti e quindi è un processo rivoluzionario lo diceva Thomas Mann in epoche difficili della storia dobbiamo ritrovare l'elemento rivoluzionario del progetto democratico e allora voglio lanciare questo bel pensiero di Italo Calvino quando immaginava il futuro e c'è molto anche dell'immaginazione che Casaleggio lancia continuamente lanciava anche Davide lancia questa questa centralità dell'immaginazione creatrice del pensiero creativo e lui dice se volessi scegliere un simbolo augurale per l'affacciarsi al nuovo millennio questo lo scriveva nelle lezioni americane nel 1988 sceglierei questo l'agile salto del poeta filosofo poeta filosofo creatore creativo tecnico ma anche riflessivo che sa pensare cioè l'uomo siamo tutti noi umani poeti filosofi siamo fatti così siamo intuitivi e siamo razionali non basta uno non basta l'intuizione se non si sa trasformare in riflessione e non basta assolutamente la riflessione che non sia illuminata dall'intuizione il poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi rumorosa aggressiva scalpitante e rombante appartiene al regno della morte come un cimitero da automobili arrugginite ecco rottamiamo veramente sto cimitero grazie grazie grazie